Bene, come preannunciato abbiamo con noi Alessandro Maselli quest'oggi. Buonasera o buongiorno a seconda di quando ci ascolteranno gli ospiti, Alessandro. Buonasera. Oh, tranquilli. Intanto vi devo dire che Alessandro Maselli è stato anche uno che ha avuto a che fare con la radio nel passato. Diciamo nell'adolescenza, quando le prime trasmissioni fatte con la scuola, con i giovani, o meglio il cosiddetto radioscuola, abbiamo avuto anche lui ai microfoni. Quindi sei già a vezzo ai microfoni. Beh, a vezzo no, perché poi ho avuto un periodo di astinenza di vent'anni. Però la radio l'ascolti, dai. La radio l'ascolto sempre, anche perché io viaggio molto spesso. Esatto, quindi ascolti la radio, ma leggi anche tantissimo. Forse è stata proprio questa tua passione per la lettura che poi ti ha portato a scrivere questo libro di cui parleremo oggi. In realtà il libro nasce da un gioco. Lessi un anno fa un libro di Chiara Gambarale, si chiama Per Dieci Minuti, in cui la protagonista per dieci minuti al giorno fa una cosa diversa che non ha mai fatto in precedenza. Per cui io il 14 marzo 2014 inizio a scrivere, divertendomi, quello che è il primo capitolo di questo libro. Poi è piaciuto agli amici, che di solito sono i primi lettori. I primi critici anche. E quindi è nato questo, io lo devo dire, mamma non sa che dico le parolacce, quindi per fortuna oggi non ascolto. Vaffanculo Bridget Jones, è proprio questo modo di dire quasi. Naturalmente nasce spontanea la domanda che cosa ha a che fare con il diario di Bridget Jones. No, con il diario di Bridget Jones non ha niente a che fare. In realtà è un'interlocuzione che usano i due protagonisti maschili quando si salutano. Lui, il protagonista, si chiama Roman Jones, il suo amico si chiama Santo, ha un negozio di chinchaglierie. Ogni volta che Roman lo va a trovare, lui lo saluta chiamandola la mia cara Bridget. E quindi Roman interviene mandandolo a quel paese dicendo, ma vaffanculo Bridget Jones. Bridget Jones. Quindi stiamo parlando di un romanzo, è un romanzo tra l'altro di, non sono quei mattoni enormi, molto scorrevole, che parla. A quanto pare anche un po' le atmosfere danno un po' quell'idea di mercatini londinesi o comunque quelle strade londinesi un po' trendy. Sì, diciamo che la storia si svolge su due binari. C'è la storia del protagonista Roman e del suo amico Santo e di questa incapacità di collocarsi in un'epoca in cui il lavoro ti disorienta, gli affetti ti disorientano. In concomitanza c'è la storia della protagonista, che invece si chiama Lele, ed è la sua migliore amica Anto, che vive in una terrazza. In realtà il palcoscenico principale della storia si svolge a Roma su un terrazzo in via Manila, è una via inventata. In realtà a Roma esiste piazza Manila, però mi aveva colpito questa zona di Roma e quindi ho voluto ambientarla a una parte su questo terrazzo, che è il palcoscenico principale delle avventure di Lele e di tutta quella che poi lei chiamerà il suo bagaglio, che porta in giro. E a proposito di location, questo libro poi parla anche, o meglio, in qualche modo si sposta anche a Vieste. Diciamo che il romanzo a un certo punto sì, c'è un viaggio fatto a Vieste, dove vengono descritti i tornanti, dove viene descritto il panorama, dove si parla di un piccolo faro che in realtà a Vieste non esiste, potremmo collocarlo in quello che è la Baia di San Felice. Quindi le torri saracene, quindi la torre saracene che era da quella parte, e che comunque può essere anche un faro, era comunque un punto di avvistamento se vogliamo. Quindi location, storia, l'amore c'entra sicuramente in questa storia. L'amore muove tutto, è come il vento a Vieste, se non c'è l'amore Vieste non potrebbe esistere, neanche la mia storia, se non ci fosse il vento Vieste non sarebbe la stessa. Ma poi una storia è come nasce, cioè questo libro è nato sì per gioco, perché dicevi hai cominciato a fare qualcosa che non è il tuo mestiere, quindi che non avevi mai fatto, però poi da dove si prendono gli spunti? C'è anche qualcosa di vero? In realtà è la storia di Lele, è la storia di una mia cara amica, quindi si basa su qualcosa di vero. Lei è la protagonista di questo libro, naturalmente poi si accentuano a certi caratteri, di certe particolari. Questa mia protagonista ha una cicatrice sulla gamba che sembra parlargli. Non vi racconto come mai ha questa cicatrice, perché il libro va letto anche perché... Fa scoperto, ci sono delle sfumature da interpretare. Io poi non mi piace descrivere tutto, certe cose le lascio all'immaginazione del lettore, perché se no non viene spinta l'immaginazione. Invece uno deve creare anche immaginandosi personaggi, immaginandosi il contesto. E' il bello della lettura, a differenza insomma del video che ti impone parole, immagini e tutto il resto, invece con la lettura si può spaziare con la fantasia, per fortuna, un po' come ci aiuta a fare la radio. Il libro naturalmente oltre a te, insomma che l'hai scritto, ci sono diverse collaborazioni, cioè troviamo diverse persone che in qualche modo hanno contribuito a questo libro in qualcosa. Certo, allora innanzitutto ti racconto com'è arrivata l'edizione, perché io sento di un concorso che una casa editrice di Foggia aveva indetto, in realtà loro cercavano dei giovani autori pugliesi per pubblicare alcuni loro scritti, io ho inviato il romanzo già col titolo, così. Il titolo veramente è piaciuto talmente tanto che mi hanno chiamato, senza averlo letto prima credo, perché poi mi hanno chiesto la storia, poi naturalmente dietro il libro c'è un lavoro che è di tutto un'equip e io innanzitutto ringrazio l'editore che è il Castello Edizioni di Foggia e Antonio Blasotta, è collegato la casa editrice a Il Mattino, il giornale di Foggia. E poi nel libro abbiamo inserito una poesia che è di Lucia Torelli, che è un'artista, una poetessa, ma anche pittrice che ha vinto premi nazionali e internazionali, che è in terza di copertina e lei ha voluto imprezzosire questo mio romanzo dopo averlo letto con una sua poesia e sono inseriti nel libro anche dei bozzetti di un artista, di uno stilista bravissimo, originario di Barletta, ma che vive a Milano, che si chiama Raffaele Morelli e nel libro diciamo che un po' le due protagoniste vestono Raffaele Morelli perché diventa un marchio... Quindi è già un marchio praticamente, è già viato, bene. Invece la copertina, ve lo vogliamo parlare, a me sembrano posti quasi conosciuti, molto familiari. Sì. Questo è un dipinto, credo, che cos'è? È un olio su tela, in realtà a me piace dipingere, è sempre stata una cosa che ho coltivato sin da piccolo, ho preso anche, prendo ancora lezioni di pittura quando ho tempo, perché nella vita faccio anche altro, e di solito dipingo panorami che riguardano il Gargano, questo della copertina è l'architello di Vieste. Infatti si vede parte dell'architello, quindi con un Vieste sullo sfondo. E questo pescatore che sta lì, sognante. Beato, beato, guarda, ma poi niente di fantasioso, perché Vieste è così tutto sommato, o meglio i posti si possono godere ad avere in questo modo. Alessandro, a me non resta che farti gli auguri per questo libro, siamo prossimi al Natale, quindi credo che sia davvero magari una buona idea di un buon regalo di Natale. Dove si può trovare intanto questo libro? Allora, innanzitutto a Vieste, nella libreria, ci sono, c'è. Si può acquistare su internet, sul sito www.ilcastelloedizioni.it, e nelle altre librerie è sempre possibile ordinarlo e farlo pervenire. So che comunque parte dei ricavati di questo libro è andato anche a qualche associazione. Sì, sui ricavati di Vieste noi cerchiamo di aiutare l'associazione Lampana, l'associazione che si occupa dei cani senza dimora, in particolare il progetto Zero Cani in Canile, e infatti a Vieste, quando l'ho presentato, ha collaborato con me Francesca Toto. Sì, che è responsabile tra l'altro nostra amica e nostra collaboratrice, ed è un'operazione che sta funzionando davvero bene, devo dire proprio a livello nazionale, perché in Italia si stanno facendo conoscere questi dell'Ampana di Vieste. Quindi, comprando un libro è anche una cosa buona. Esatto, andiamo a sostenere anche questo. Ancora in bocca al lupo, quindi grazie per essere stato con noi oggi. Io vi ringrazio, e insomma io ritorno un po' in quelli che sono i tempi passati, e ritorno giovane quando vengo in questa radio, quindi spero di essere anche prossimamente di nuovo ospite, e saluto tutti gli ascoltatori che ascoltano da radio. E fanculo Brigia Jones. Affanculo Brigia Jones. Affanculo Brigia Jones.